Grazie, benvenuta a Modena, come è il tuo porto, il Stai, il prossimo regolatore, il prossimo regolatore, il prossimo regolatore italiano. Il lavoro è molto duro qua, conversando anche con i partiti atletici, stiamo parlando la stagione che sta per cominciare. Sicuramente la città è molto bella, mi trovo bene con i miei compagni. Vieni dalla Germania, dalla Germania, dove hai giocato alcune anni e d'altro livello, cosa ti aspetta e cosa ti attende per questa temporale italiana? Io spero di un livello altissimo, perché vincolo il suo partito dell'area italiana, però è un risultato che sia difficile. Mi aspetto a un livello molto alto del campionato italiano, ma io voglio che sia così, perché le cose difficili mi attraggono, mi piacciono e vorrei che questo livello fosse sempre più alto. La squadra è competitiva, è una stagione di alto livello, i tuoi compagni sono giocatrici forti, ma la quale può essere turba? La stagione è molto lunga, c'è costo per tutti, in un certo periodo della stagione c'è anche molta stanchezza e pertanto c'è anche la mia opportunità per salire in campo. Bienvenida a Modena e saluto il prossimo giorno. Grazie. Posto.